allora ecco il panorama sulla maddalena abbiamo appena scollinato oltrepassando la vigna di matteo che era la nostra meta per così dire perché adesso in teoria dovremo aver superato tutte le salite dovremmo essere in fase di di atterraggio insomma di ritorno all'arzaghena con un percorso più accessibile per quanto mi riguarda personalmente queste sono le salite più dure che abbia mai fatto non so se leonardo condivide la stessa opinione adesso non abbiamo ancora un rilievo per sapere esattamente a quanto quanto si possa attestare la pendenza però secondo me è ben oltre il 30 per cento almeno la prima parte quella in cemento è oltre il 30 per cento ecco un altro po di panorama qui la strada prosegue e adesso ce ne mettiamo in sella